Intendo guidare con orgoglio, con rinnovato entusiasmo, con immutata responsabilità questa regione guardando al futuro, guardando all'autonomia non come una mera concessione, ma come un diritto costituzionale. La Lombardia è libera e come tale va lasciata. Lombardia! 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 Ma voi non avete mai detto abbiamo sbagliato, scusate potevamo fare meglio. No, si è limitato a dire anche oggi altre regioni hanno fatto peggio. Allora se questo è il parametro di riferimento siamo a posto, la grande Lombardia che si appoggia sugli errori degli altri per giustificare i propri. Per noi deve dimettersi perché non ha più la fiducia nostra ma soprattutto se si guarda in giro esce dal suo bozzolo in cui si è rinchiuso non ascoltando mai le opposizioni in questa emergenza non ha più la fiducia dei Lombardi.